Sì, sto qui, sto all'aeroporto del Fiumicino. No, i cavalli inizio inglese è cominciato a vissi. Vabbè, come li vedo te chiamo. Ciao, ciao. Amo, com'è questa palligia? Oscar, io mi sono licenziata. Licenziata? Perché? Perché io stufa di fare badante. E te capisco. Ma io dico una bella ragazza come te, chiusa tutto il giorno, in mezzo a quattro mura, e cambia i pannoloni a qua, vecchia, là. Ma, senti cosa che ti dico, d'oggi ho scheretto tuo, te farà fare la signora. Tu comprare mai monolocale? No, ti porto a casa mia. A cagherì, monolocale. Nonna! Ti presento Olga. Olga, la mia cara nannina. Piacere, piacere, sì. Piacere mio, io e Olga, della Romania. Che dolore, che dolore, che dolore! Non ci fare caso, caro, ma purtroppo mia nonna è piena di acciacchi, sai l'età che vuoi fare. Ma che hai capito? Ma quei acciacchi! Mi porto a casa un'extracomunitare mi porto a casa! Che dolore, che dolore, che dolore! Che dolore! Senti un po', fia bella, fia qua. Ma compa, ogni bagno che mi sei spostato. E il pannolone, fa un piacere a nonna tua, fa un piacere! Purella, e dagli una mano a mia nonna, ma tanto che te frega. Un pannolone più, un pannolone meno, sta a vedere. Che dolore! È tutta colpa del diuretico, del diuretico. Oscar, dove sei? Io voglio andare via! Mamma mia, come sto! Oscar, ma che ti è successo? Ma quello non è Oscar, quello è Sandro, l'altro nipote mio. È un ragazzo che si deve fare. Per me, già si fa, si fa, eh, come si fa! Sandruccio, che hai fatto, nonno, tu, eh? Che ti è sapato questa volta? Ma che mi è sapato, no? Un cinquino in faccia da un vigilante. Mi ha fatto girare come una trottola, un altro giro e mi dà una maglia rosa. Che c'è? Che c'è da casa, dove è riso, dove è ruccio, tutto fettinato. Poi stranamente incontra il barone. Uno nobile? Ma quale nobile? Chiamami il barone perché lavora dentro un bar e grosso dei tuoi piani. Praticamente un barone. Ma se avviciniamo a fare i cibo, c'ho bisogno dei sordi. Ma lo so, guardate, gli ho detto al barone, c'ha messo i gusti, eh? E così, abbiamo deciso di andare a fare una rapina a ufficio postale. Oddio, oddio. Mi ha salvato la vita il barone. Bravo. Aspetta un attimo, mi spingio. Eccoci qua. Siamo arrivati. Ma che siamo arrivati? Allora vai. Piano, piano. E che te spingio? E il barone è rimasto sulla porta a far palo. Sembrava un asso di bastone. E io mi sono messo in fila. E' brutta la sinusite, eh? Ce l'ho avuta pure io. E mi fa tanto piacere, signora. Ma che è? Ma che stai a seguire la striscia? Stai a fare fila? Ma che so, addio? Ma io so spezzare il turno mio, no? Ma mica devi fare la ricetta. Devi fare la rapina. Ma non c'è stai a fare, che poi ce li conoscono. Stai a fare, no? Piano, piano. Capire, c'è scritto cazza veloce. Ma chi c'ha ancora? Piano, piano. Ma non c'è una cosa, ma tutti gli capelli che io ci ho andato a fare una raccontata espressa. Questa è una rapina! Non sento. Questa è una rapina! Non sento. Questa è una rapina! Non sento, parli dal buco! Questa è una rapina! Ho capito! Questa è una rapina!